Ciao da Avsim e buon Natale a tutti e oggi visto che è Natale parliamo un po' di mercato e parliamo di regali di Natale allora regali che speriamo che la Juventus ci possa fare, che la Juventus si possa fare e sono quindi giocatori molto interessanti di cui si sta parlando in questi giorni ho pensato di dedicare un pochino di spazio nonostante la giornata natalizia appunto a questi approfondimenti di mercato anche perché poi nei prossimi giorni sembra di no ma ci sarà secondo me tanto di cui parlare a cominciare dalla partita ovviamente di domani Atalanta-Juventus del 26 dicembre alle ore 15 giocatori perché intanto parliamo di Todibu ma nel corso della giornata vedrete anche altri video su altri giocatori come vi ho annunciato nella community quindi iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto così da rimanere collegati con me, non perdervi tutti i prossimi video e poter partecipare anche alla community con tutto il dibattito che ne consegue anche a livello di mercato parliamo allora di Todibu, chi è? me l'avete chiesto per la verità, ho ricevuto qualche commento parla di Todibu, fai un video su Todibu e allora mi avete incuriosito e sono andato a documentarmi scoprendo che si tratta sicuramente di un giocatore molto interessante sul quale effettivamente c'è l'interesse della Juventus non tantissimo però è una trattativa interessante e vi spiego tra poco perché vediamo però prima qualche dato Jean-Claire Todibu, Jean-Claire è il suo nome è nato il 30 dicembre 1999 quindi pur essendo un 99 deve ancora compiere 19 anni lo farà in questi giorni e quindi è proprio un regalo natalizio attualmente quindi 18 anni, è francese gioca nel Tolosa e quest'anno ha esordito in Ligan fino all'anno scorso aveva naturalmente giocato nei campionati giovanili è un difensore centrale che può anche fare il mediano quindi è un giocatore con grande duttilità tattica che per ora ha una valutazione di mercato di circa 8 milioni per quanto riguarda Todibu ci sono dei dati abbastanza interessanti che si possono reperire attualmente sul suo scorso, sul suo rendimento in questa stagione che parla quindi di 10 presenze già condite da un gol e un assist che non è assolutamente poco per un difensore centrale di una squadra che lotta per non retrocedere il Tolosa appunto ma poi soprattutto un rendimento da difensore sicuramente interessante 2,1 contrasti a partita 1,4 intercetti a partita 1,3 falli e 6,2 spazzate in media a partita solo 0,2 dribbling subiti che non è pochissimo ma non è neanche tanto e addirittura una percentuale di precisione dei passaggi molto buona dell'84,6% per una media di passaggi completati a partita di 42,3 quindi è un difensore con un buon piede tra l'altro ha anche un buon fisico è alto tant'è che il gol che ha fatto l'ha fatto di testa su un cross quindi svettando in mezzo agli avversari e quindi sicuramente ha delle caratteristiche molto molto interessanti soprattutto perché è così giovane deve ancora compiere 19 anni lo dicevamo quindi è veramente un prospetto molto interessante per quanto riguarda Todiboh la cosa interessante di queste ultime ore è che il giocatore avrebbe detto no al Napoli perché in questi ultimi giorni si era anche parlato dell'interesse del Napoli appunto per Todiboh Todiboh avrebbe detto no al Napoli se vado in Italia voglio solo la Juve ma va, guarda un po', chi l'avrebbe detto mai con tutto il rispetto per il Napoli chiaramente ma è chiaro che il fascino della Juventus è superiore il problema può essere il Barcellona perché sembra una squadra molto interessata a rifarsi la difesa tant'è che come sapete anche per De Ligt c'è l'interesse forte del Barcellona tanto che c'è un vero e proprio duello con la Juventus e quindi pare che il Barcellona voglia prendere tutto sia De Ligt che Todiboh a quel punto la Juventus sarebbe tagliata fuori su entrambi i fronti credo che però almeno uno di due la Juventus riuscirà a prenderlo e Todiboh non necessariamente è un ripiego rispetto a De Ligt non necessariamente è un piano B può essere un validissimo piano A ovviamente un difensore tutto da valutare da inserire poi nella Juventus con un percorso di crescita nel quale sarebbe ancora forse assistito dall'ultimo Chiellini insomma parliamo di un Todiboh che magari tra 5 anni sui 23-24 anni saluta Chiellini che si ritira ai noi dopo aver tratto da lui i migliori insegnamenti così come Bonucci che è un pochino più giovane quindi insomma il progetto c'è bisogna capire se effettivamente la Juventus ci punterà però credo che sia in termini di puntando a rifare la difesa dobbiamo sicuramente cercare dei giovani importanti anche all'estero e Todiboh è uno di questi nomi vedremo se sarà un regalo di Natale o un regalo un po' più là certo difficile acquistarlo a gennaio però potrebbe arrivare qualche notizia definitiva in vista anche di giugno chi lo sa anche perché attualmente non è dato sapere qual è la scadenza del contratto di Todiboh forse perché non ha un contratto ancora professionistico visto che appunto ha ancora 18 anni non ve lo so dire perché Transfermarkt non riporta nessuna scadenza del suo contratto quindi anche questo non ci facilita a capire quali possono essere i termini di una trattativa state certi che vi aggiornerò se ci saranno novità e allora continuate a seguirmi guardate anche i link nella descrizione ci vediamo molto presto Buon Natale e sempre Forza Juve Forza Juve Forza Juve Grazie.